Ciao a tutti amici, io sono Giulie, io sono Emily, io sono Jasmine, io sono Charlotte e io sono Sofia E insieme siamo le Miracle Junts! Oggi andremo a fare una reaction dei video al PNR Che non mi piacciono, sono dei video in cui ci sono delle persone che sono vicino a un microfono speciale Molto amplificato, fare delle cose che dovrebbero rilassare ma per esempio me lo rilassano per niente Però vedremo, vedremo Quindi cominciamo Aiuto Cos'è? Oddio, adoro No, non lo so, adesso lo taglio, adesso lo taglio Sì! Oh, bellissimo! Questo è bello, questo è bello Perché l'ha sprecata? No, ma è bellissimo Una se ne andata via Cos'è? Cos'è? No, non scoppia, non scoppia, non scoppia, non lo scoppia Non è tutto Scoppia, scoppia, scoppia No Che bello Non mi piace questo, deve scoppiare Ecco, è bravo, ha capito tutto questo nella vita Adesso fuoriesce tutto O scoppia direttamente? Non riesce a tagliarlo Non riesce a tagliarlo Non riesce a tagliarlo Ok Non riesce a tagliarlo L'ha colto di squirupista No Adesso se le mangia Le Doritos No, perfetto Ti mangia C'è la regola dei 7 secondi Se lo sta mangiando 3 secondi Se lo squishy No, poverini Li ha sporcati Oddio, quello è impossibile Adesso lo schiaccia e ritorna Poverina Questo fastidio Questo è bello È la spugna dei fiori Oddio mi devo riprendere un secondino Le facce che faccio in sto video sono orribili Anche io Che non si rompono Che fastidio Che fastidio Ma sto gridando Che carino Arraganti non lo supporto No è bellissimo Aia No ha ragione Questi mi piacciono No questi non piacciono Questi qui mi ammessi Cosa Cosa No 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 Ma cosa no Che brutto No che c'è C'è un po' di cose in mezzo ai denti mi sa che Me ne vado No Stai sta finendo Ma fastidissimo Ciao tipo No no ha finito Ha finito Ha finito Sta parlando No 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 La gomma La gomma No C'è il tipo che si vede la reaction in diretta No la gomma Che schifo La penna Ah la penna No No Questa mi piace Un pochettino Cioè non mi da tanto Dicevo Vuoi anche smettere Grazie No No Basta Guarda che sto guardando che lei è soddisfatta Cosa è questo? Romperlo No No lo rompe No non lo rompe No No questo mi piace No No me no Nelton Ah questo è bello Ah ok Questo è bellissimo No Ah Mi è brutto Sì ma quanti level ci sono scusate? Ah se le mangia Se le mangia Che brutto No questo non mi da fastidio Ma che brutto Ma io ho fatto fastidio No 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 Mi aiuto Mi aiuto Mi aiuto Mi aiuto Oh no Oddio hai stato lì qua No 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 Questa è proprio tortura eh Finito? Si Per me è andato abbastanza bene L'ultimo, l'ultimo no, l'ultimo non ce l'ho fatto Ma è stata coordinata, abbiamo fatto tutte quante così È stato orrendo A me ne ha fatto venire sonno Sì, alcune sì, stavo proprio a me A me è piaciuto, quello che mi piace di più è stata la macchina che passava sopra la bolla con dentro il glitter blu Sì Quelli della macchina quasi tutti, questi qua Beh invece, il primo video tutto rosa, fiori carino Il secondo, la tipa Ma che coraggio hai a fare questo video Ma seriamente? A me no A me anche se stai così no, io non mi mastico la gomma a bocca aperta A gomma aperta Quindi ragazzi, il video finisce qui Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto E commentate qua sotto se a voi vi piacciono gli ASMR Oppure come me li odiate E se avreste avuto la stessa reazione all'ultimo All'ultimo Quindi vi facciamo un Miracle Tunes appappato da ASMR Quindi Miracle Tunes app Cos'è Jasmine? Sì Buongiorno Quinti Chi